Gossip e intrighi. Antonella Fiordelisi e i retroscena degli ex. Ciao a tutti, amici di Top 5 News Italia. Benvenuti su questo nuovo appuntamento con le notizie più scottanti dal mondo del gossip e dello spettacolo. Oggi vi porteremo nel cuore degli ultimi sviluppi riguardanti la vita turbolenta di Antonella Fiordelisi e i suoi ex. Se siete pronti, allacciate le cinture perché si prospettano rivelazioni sorprendenti. Ma prima di iniziare, assicurati di iscriverti al nostro canale Top 5 News Italia e attiva la campanella per non perdere nemmeno un aggiornamento. Iniziamo con la storia che ha fatto tremare i social. Antonella Fiordelisi e il suo ex Gianluca Benincasa, rinchiusi nello stesso centro estetico. Ricordate quanto Gianluca aveva attaccato Antonella? Aveva svelato retroscena e indiscrezioni che sembravano non finire mai. Ma ora sembra che le cose siano diverse. Recentemente, entrambi hanno pubblicato foto dal medesimo centro estetico. Coincidenza? O segnale di riavvicinamento? La risposta è ancora avvolta nel mistero, ma tenetevi pronti perché vi terremo aggiornati su ogni sviluppo. E parlando di ex, chi può dimenticare il tormentato legame tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donna Maria? Una nuova tappa di questo viaggio è stata segnata da un cappellino regalato dai fan, finito nelle mani di un'altra ragazza. I fan donnalisi sono divisi, tra chi crede in un gesto innocente e chi invece vede dietro le quinte. Tu cosa ne pensi? Dicci tutto nei commenti. E ora, un appello a te, nostro prezioso spettatore. Se sei appassionato di notizie e gossip, se vuoi rimanere sempre aggiornato sulle ultime avventure di Antonella e dei personaggi più amati, ti invitiamo a mettere un like a questo video e a condividerlo con amanti del gossip come noi. Non vuoi perdere nemmeno un dettaglio, vero? Ma non finisce qui. Per metterti alla prova, ti lanciamo una sfida. Sulla base delle notizie che ti abbiamo appena dato, rispondi a questa domanda nei commenti. Secondo te, cosa ci riserva il futuro per Antonella Fiordelisi e i suoi ex? Siamo curiosi di conoscere le tue previsioni e opinioni. Ricorda di lasciare la tua risposta qui sotto e di interagire con gli altri spettatori. La discussione è aperta. E con questo è tutto per oggi, cari spettatori. Grazie per averci seguito su Top 5 News Italia, il tuo punto di riferimento per le notizie più intriganti dal mondo del gossip e dello spettacolo. Ci vediamo al prossimo aggiornamento.